Prima puntata del Grande Fratello Vipo ieri 13 settembre 2021. E cosa è accaduto? Punto interrogativo. Bene, Manila Nazaro e le principesse di Selassie sono le prime ad essere nominate, però senza terributo. Mi ricordo che ad affiancare il buon Alfonso Signorini ci sono state la moglie di Paolo Bonoli, Sonia Bruganelli e la stupenda, nonché magnifica, Adriana Volpe, opinioniste in rodaggio venerdì prossimo. Entreranno altri otto concorrenti. Insomma è stata una puntata abbastanza piacevole, devo dire che Alfonso Signorini se l'è cavata molto bene in qualità di conduttore. È un ottimo conduttore, effettivamente parlando, non se la cavava male, anzi se la cavava davvero molto molto bene. Non è così giù di tono, ma si è molto bravo di quello, nella conduzione del reality in questione. È stata comunque una puntata anche piacevole perché abbiamo visto nella loro bellezza completa, ma anche marcata la moglie di Paolo Bonoli, Sonia e, dall'altra parte, Adriana Volpe. Entrambe davvero molto belle a livello estetico, nonché affascinanti. Vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi che è utente di YouTube. Iscrivetevi al canale dei narratori italiani e commentate. Un saluto alle caro e al prossimo video.